Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. La Sacra Tunica di Cristo è una reliquia conservata nel Duomo di Treveri, quindi siamo in Germania, e la Sacra Tunica consiste in un pezzo di stoffa priva di cuciture, che si ritiene abbia fatto parte della tunica che indossava Cristo prima della crocifissione e che, secondo il Vangelo di San Giovanni, i soldati romani, preposti alla sorveglianza del Golgotha, si disputarono tirandola a sorte, no? Era tutta ad un pezzo senza cuciture. Eh, quella tunica l'avrà preparata la Madonna, di sicuro. Bene, viene usato a volte anche il termine tunica inconsutile, che vuol dire semplicemente tunica senza cuciture. Ha una storia mutevole, perché talvolta ci sono state le condizioni di conservazione sfavorevoli. Bene, questo fece sì che si dovesse procedere ad un esame archeotessile fra il 1973 e il 74, che però non riuscì a definire esattamente l'origine e l'età del reperto. La divisione delle vesti di Gesù è un passo molto importante nei Vangeli, la divisione delle vesti di Gesù, ed è menzionata anche nei tre sinottici. Vangelo secondo Luca, Vangelo secondo Marco, Vangelo secondo Matteo. Secondo la tradizione, la tunica, o meglio parte della tunica, venne in possesso di Sant'Elena, sempre lei, madre dell'imperatore Costantino il Grande, che l'avrebbe consegnata a Santa Grizio, che era arcivescovo di Treviri, affinché la portasse proprio a Treviri. Poiché, sempre più spesso, ci si vide costrette ad apportarvi riparazioni e a prendere misure per proteggerla, la situazione originale della tunica venne alterata più volte. Secondo diverse ispezioni, si trattava solo di più strati di stoffe diverse, che nel corso dei tempi vennero assemblate su un nucleo unico. La diocesi di Treviri descrive la situazione attuale della reliquia, sulle sue sito web, che nel 2011 ci riferiva così. Sentite, ne danno una descrizione molto interessante. I brandelli di stoffa della parte anteriore della tunica consistono oggi, visti dall'interno all'esterno, in un saten sedico, di un tulle brunastro e di un grigio taffetà. Questo taffetà si aggiunge ad uno strato di antichissimi frammenti di stoffa, che sono fra loro collegati da un supporto elastico. La parte della tunica consiste in saten serico rosso bruno, tulle brunastro, fini garze in seta, un feltro, taffetà verde, un ulteriore strato di feltro e di garza serica. Di qui si deduce che le fibre di lana, che oggi costituiscono il feltro, in parte connettendolo e in parte strappandolo, rappresentano il nucleo del tessuto, la cui età non può più essere ben determinata. Quindi questi sono i colori, questo rosso bruno, brunastro, mi colpisce il taffetà verde. Credo che la Madonna piacesse molto questo colore, quel verde molto particolare. Sì, ho detto verde particolare perché tra il verde ed il turchese. Originariamente la sacra tunica venne citata la prima volta il primo maggio 1196 allorché l'arcivescovo di Treviri, Giovanni I, consacrò l'altare maggiore dell'allora appena retto coro dell'uomo di Treviri e lì incorporò queste reliquie. Quando l'imperatore Massimiliano I venne a Treviri in occasione della riunione del Parlamento del Regno 1512, chiese proprio di poter vedere la sacra tunica. L'arcivescovo, come molti altri prelati in presenza dell'imperatore, fece aprire l'altare. Dopo un ufficio divino celebrato in memoria della difunta consorte dell'imperatore Massimiliano I, i cittadini chiesero a gran voce l'esposizione della tunica. E così il capitolo del duomo fece erigere, lo dicono proprio le xilografie di quell'epoca, fecero erigere una balconata sul lato ovest dell'abside dalla quale, a partire dal 30 giugno, ebbero luogo numerose esibizioni della sacra tunica. Fino al 1517 si ebbero annualmente pellegrinaggi alla sacra tunica di Treveri. Dietro suggerimento di Papa Leone X, i pellegrinaggi dovevano svolgersi, successivamente in concordanza con i viaggi, al santuario di Aquisgrana, quindi voleva un vero e proprio pellegrinaggio. Poi ci furono esibizioni della tunica con cadenza settennale, 1524, 1531, 38, 45. Poi cominciarono i disordini, no? Per la riforma, poi le guerre, e la cadenza delle esposizioni venne abbandonata e cessò. La sacra tunica venne custodita dal 1632 al 1794, salvo qualche interruzione, in una fortezza a Coblenza e lì il vescovo Johann Philippe la fece esporre il 4 maggio 1765 predisponendo per l'occasione un pellegrinaggio. L'ultimo principe elettore di Treviri, Clemente Benceslao di Sassonia, la portò ad Augusta, ma poi, nel 1810, la riportò a Treviri. Fino ad ora i pellegrinaggi, in occasione dell'esibizione della sacra tunica, ebbero luogo negli anni 1513, 14, 15, 16, 17, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al 1996. Pensate che nel 1810, in occasione del rientro da Augusta, la sacra tunica di Cristo venne esposta per 18 giorni e di funa flusso complessivo di 220.000 pellegrini. Invece, più avanti, esposizione del 1844, sette settimane, giunse a Treviri un milione di pellegrini. E questa esibizione di deluogo ha frequenti dibattiti pubblici, no? Diversi dibattiti pubblici. Nel 1891 comparve nella stampa romana, parigina, londinese, l'annuncio del vescovo Michael Corum di una nuova esposizione della sacra tunica con la conseguente organizzazione dei pellegrinaggi, che si svolse in ambiente internazionale, non solo tedesco. Bene, in questa occasione il numero di pellegrini giunti a Treviri per l'esposizione della sacra tunica furono circa due milioni. Nel 1933, in occasione dell'anno santo, ebbe luogo l'esposizione della sacra tunica di nuovo. Dal 23 giugno all'8 settembre, quell'anno, giunsero a visitare la reliquia ancora oltre due milioni di pellegrini. L'ultimo, abbiamo detto, è il 1996, pubblica esposizione della tunica. All'insegna di questo motto sulla via con Gesù Cristo, a Treviri giunsero per l'occasione circa 700 mila pellegrini. Da allora, la diocesi di Treviri organizza l'annuale decade della sacra tunica. Dieci giorni sul tipo dei regionali giornate di cattolici, no? Loro hanno queste giornate. Bene, in questa occasione la sacra tunica non viene esposta, ma i visitatori del Duomo di Treviri possono in quei giorni accedere alla camera del santuario in mezzo alla quale si trova lo scrigno contenente la reliquia. che è tutta distesa, la si vede benissimo, non è solo un pezzettino, magari non si capisce, no, 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 la si vede perfettamente. Un'altra esposizione pubblica della sacra tunica di Cristo dal 13 aprile al 13 maggio del 2012 perché ci fu in concomitanza la celebrazione del cinquecentenario del del Parlamento di Treviri alla quale il Vescovo di Treviri invitò nel corso di un'udenza pontificia a Roma Papa Benedetto XVI. Abbiamo parlato della sacra tunica di Cristo voglio terminare con il Vangelo secondo Giovanni. Il versetto citato dall'Evangelista è quello del Libro dei Salmi 22 21 19 i soldati poi quando ebbero crocifisso Gesù presero le sue vesti e ne fecero quattro parti una per ciascun soldato e la tunica quindi presero le sue vesti ne fecero quattro parti una per ciascun soldato e la tunica ora quella tunica era senza cucitura tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo perciò dissero tra loro non stracciamola ma tiriamo a sorte a chi tocca e così si adempiva la scrittura si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte e i soldati fecero proprio così mi seed was born when bright spring warm in gardens grown by God out 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 of the earth my sand gave birth to petals red as blood the gentle rain my glow sustained and and like each sea God soul produzione radio Maria tutti i diritti sono riservati i i i